Ad Artigiani in Fiera una manifestazione importante, una presenza ricca con tanti prodotti artigiani che fanno innovazioni ma anche qualità ambientale. Sì, assolutamente sì. Infatti quest'anno abbiamo voluto rivedere i criteri per la partecipazione a questa fiera. Abbiamo cercato di premiare le piccole imprese che hanno saputo innovarsi, che hanno saputo portare avanti un modello di sviluppo sostenibile. Ovviamente poi quelle imprese che hanno il logotipo 1M. La risposta è stata straordinaria perché le domande sono state tantissime e quest'anno le marche saranno rappresentate da 61 artigiani. Un modello anche di comunicazione molto innovativa per cui anche i visitatori avranno la possibilità di rimanere in contatto con i nostri artigiani attraverso una piattaforma e-commerce. Quindi il nostro è un artigianato che ha saputo innovarsi e che insomma sta rispondendo positivamente a quelle che sono le sfide di un mondo sempre più globale.